In questo momento ci troviamo sul Königsee, a 5 km da Berthesgaden e questo in cima è il Kölstein, nido d'aquila di Iper e questo è il Kölstein, nido d'acqua, è il Kölstein, nido d'acqua, è il Dio Come è la primavera, in questo momento l'ho aperta molto difficile Ah, ripresa molto difficile, eh? Eh, ripresa molto difficile, eh? Ehm... Grazie.